Adotti un cane a randaggio dal canile e non paghi i latari, ovvero la tassa sui rifiuti. Questo in estrema sintesi è il provvedimento amministrativo a cui sono ricorsi ormai diversi comuni, per risolvere da un lato il fenomeno del randagismo e dall'altro per migliorare i conti sempre più difficili degli enti locali. A questa idea ora guarda anche il comune di Bologna, che sta studiando come poterla mettere in pratica. Alcuni comuni hanno adottato questo provvedimento, come Grosseto, perché si sono accorti di spendere di più per i cani che per i servizi sociali. Bologna non ha i problemi di randagismo di alcuni comuni del sud Italia, ma il numero di animali a cui dover far fronte aumenta sempre di più, perché negli ultimi anni molte persone portano il cane al canile dicendo che non possono più occuparsene perché non hanno più i soldi per farlo. Nel canile di Bologna oggi si trovano circa una novantina di cani e una cinquantina di gatti che vengono accuditi attraverso una spesa individuale di circa 700 euro l'anno. Attraverso le adozioni il comune può azzerare la Tari e risparmiare comunque ancora un po'. Una buona notizia sia per gli amici a quattro zampe che per le famiglie che potranno godere del piacere di un amico in più. Grazie a tutti.